Silvestro Lega e altri macchiaioli. Chiudiamo le nostre dirette sui macchiaioli mettendo insieme tutti gli altri artisti, chiamiamoli macchiaioli minori, alcuni però veramente di grande pregio, come appunto Silvestro Lega che chiuderà la nostra serata. In realtà non iniziamo da lui, ma iniziamo da altri macchiaioli. Abbiamo già studiato quindi un po' le caratteristiche di questi pittori, queste macchie di luce che sono così prevalenti nei loro quadri. La Toscana, il Gran Ducato di Toscana in modo particolare, che è il luogo di inizio della diffusione di questo nuovo modo di intendere la pittura anti-accademico, en plein air, diciamo, nel senso che è il nostro movimento dell'Ottocento che ha delle analogie e perfino precede quello degli impressionisti francesi, pur con delle sfumature, insomma, diverse. È molto importante anche questa collocazione perché ci testimonia di una grande libertà di espressione di cui godevano gli artisti sotto il Gran Ducato di Toscana, tant'è vero che addirittura questi artisti partecipano ai moti del 48 e anche alle guerre di indipendenza, perché sono risorgimentali, combattono e lottano per l'indipendenza d'Italia. Si trovano nel Caffè Michelangelo, che è stato dipinto da Adriano Ceccioni nel 1867 circa. Però era già più di dieci anni che questo luogo, e soprattutto, come vedete, il salotto del retro di questo Caffè Michelangelo, era diventato un luogo di ritrovo di questi pittori che così qui, insomma, hanno individuato, trovato ispirazione, senz'altro, e soprattutto un luogo di scambio culturale, artistico, dove diffondere queste nuove idee sull'arte vissute in un modo completamente diverso rispetto all'accademia. Quindi, bando ai dettagli, bando alle sfumature, le macchie di colore, che, pochettino, come dicevano anche gli impressionisti, ci rappresentano quello che nella nostra mente accade nel momento in cui siamo colpiti da una visione, da una vista nuova. E quindi, le prime cose che ci appaiono sono appunto queste macchie di colore, non i contorni. Bene, parliamo proprio del pittore che ha dipinto questo quadro, che è un po' programmatico, della scuola dei macchiaioli, cioè di Adriano Cecioni. Lui è nato in una frazione di Firenze, un soborgo, frazione di Vaglia, ecco, da due appunto i suoi genitori benestanti, proprietari di immobili, ha partecipato, diceva, ecco, ha frequentato l'Accademia delle Belle Arti di Firenze, come gran parte comunque dei macchiaioli di cui abbiamo già parlato, e poi si è arruolato come bersagliere nella Seconda Guerra d'Indipendenza. Poi è tornato a Firenze, ha partecipato, insomma, attivamente al risorgimento. Poi era anche scultore, ecco, perché lui aveva studiato proprio nell'Accademia, soprattutto scultura, più che pittura, e quindi diciamo che partecipa dai concorsi di scultura, non li vince, a dire la verità, e poi si avvicina sempre di più ad alcuni amici pittori che sono Tenemaco Signorini, quello di cui abbiamo parlato la volta scorsa, Vincenzo Cabianca e Cristiano Banti, gli amici di Signorini, anche questi li abbiamo citati la volta scorsa. Poi finalmente nel 1963 si aggiudica una borsa di studio dell'Accademia Fiorentina, e si trasferisce a Portici dando vita alla cosiddetta Scuola di Resina insieme a Giuseppe De Nittis, Marco De Gregorio, Federico Rossano. Poi, terminata questa borsa di studio, si trasferisce a Parigi dall'amico Giuseppe De Nittis che, come abbiamo spiegato, era un pittore che era proprio... faceva parte di questa scuola, di questo gruppo ristretto di artisti di cui faceva parte anche Adriano Cecioni. Poi però, ecco, De Nittis si è adattato perfettamente alla società borghese parigina e invece Adriano Cecioni no. Che cosa scrive, per esempio, Adriano Cecioni? Relativamente alle esposizioni, ho scritto una lettera Banti della quale non ripeterò qui che poche cose. Quadri a migliaia dove l'impotenza, la sfacciataggine, l'impudenza si dichiarano in tutta la loro estensione. Quindi, come vedete, è abbastanza risentito contro un'arte praticamente commerciale quale è appunto quella che si riscontra anche nell'esposizione universale di Parigi. Il complesso dell'esposizione presenta due arti, l'arte accademica con tutta la superbia della toga e l'arte comica, la pittura di moda, con mezzogne, caposcuola. Ti assicuro, caro mio, si rivolge a Telema con Signorini. Questa lettera è destinata a lui. Che non c'è niente di più nauseante e stomachevole di questa pittura. Quadri leziosi per essere graziosi. Pittura che ha messo il culto alla finestra con le pose del très joli. Quello che deve essere gradevole, esteticamente, carino, ecco. Non c'è un artista sincero all'infuori di Courbet. Non c'è qui a Parigi. Insomma, un artista sincero al di fuori di Courbet. Dopodiché, stavamo dicendo, ritorna a Firenze. Ritornano anche le difficoltà economiche una volta terminata la borsa di studio. Comunque collabora con Diego Martelli, di cui parleremo ancora oggi, e Telema con Signorini alla pubblicazione del giornale artistico, dove non risparmia critiche ai nemici francesi della scuola di Barbizon, che è una scuola realista, ma che precede insomma il periodo dei macchiaioli e ancora di più il periodo della seconda metà dell'Ottocento, perché la scuola di Barbizon è una scuola della prima metà dell'Ottocento, soprattutto. Poi partecipa all'esposizione nazionale di belle arti di Torino, poi insomma muore improvvisamente a Firenze il 23 maggio del 1886. Nel 1970 gli è stata dedicata la personale Cecioni scultore presso la Galleria d'Arte di Modena, perché come abbiamo detto infatti, Cecioni oltre ad essere un pittore, qui vediamo per esempio un bellissimo interno con figura del 68, è stato anche scultore, poi anche produceva caricature, insomma era veramente un artista abbastanza eclettico, per esempio realizzò un gesso, quindi una scultura intitolata Il suicida, ispirata ad una poesia di Giacomo Leopardi, poi scrisse anche dei saggi, insomma un artista sicuramente eclettico e interessante, Adriano Ceccioni. Il secondo artista di cui parliamo invece, Domenico Morelli, è in un certo senso un pre-macchiaiolo, ecco, i contemporanei lo ritennero uno dei maggiori pittori italiani dell'Ottocento, soprattutto per le opere di tema storico. La scelta di soggetti di questo genere più vicina al romanticismo che al realismo finirà per allontanarlo dall'ambiente napoletano. Morelli sarà attivo a Firenze, a Milano, in Francia, diventando così un pittore internazionale. La maggior parte della sua produzione però è forse costituita dai ritratti. A di là dell'atteggiamento teatrale dei personaggi da lui dipinti, bisogna riconoscere Morelli in merito di aver dato vita a un luminismo sfaccettato a macchie in qualche modo di origine tiepolesca che avrà un peso non indifferente sulla corrente appunto dei macchiaioli che si svilupperà dopo di lui. Infatti Domenico Morelli è un pittore della generazione precedente ecco che precede quella dei macchiaioli. come abbiamo letto su questi appunti scolastici fatti da uno studente di una scuola superiore a un certo punto Domenico Morelli è proprio passato da Firenze ed è lì che ha incrociato perché lui era un pittore napoletano lui è incrociato a Firenze dicevamo il gruppo dei macchiaioli che del resto sono stati forse da lui anche minimamente ispirati. Poi fece tantissime opere collaborò alle illustrazioni della Bibbia di Amsterdam morì nel 1901 fu direttore dell'Accademia di Belle Arti di Napoli tra i molti allievi insomma parecchi importanti pittori soprattutto napoletani era cognato del fisico Emilio Villari e dello storico Pasquale Villari bene passiamo adesso invece a parlare di un pittore che è proprio macchiaiolo al 100% non come Morelli che insomma è un po' precede i macchiaioli Raffaello Sernesi che invece proveniva da una famiglia modesta di artigiani in Toscana perché lui viene da San Frediano ecco non so se avete mai letto il romanzo di Pratolini che sarà una delle prossime letture di narrativa che faremo insieme le ragazze di San Frediano pensate che addirittura la sua famiglia era talmente povera che dovete lasciare gli studi a un certo punto perché quando muore il padre insomma non ci sono i soldi nemmeno per studiare si arruola come volontario però è un fervente appunto patriota partecipa a svariate imprese belliche nel 1860 conosce Telemaco Signorini ed è lì che si avvicina all'ambiente dei macchiaioli nel caffè Michelangelo e nel 1861 aderisce alla scuola di Piagentina insieme con i pittori Silvestro Lega Giuseppe Abbati Odoardo Borrani e Telemaco Signorini e di tutti questi vedremo anche dei quadri mentre di Telemaco Signorini li abbiamo visti la volta scorsa nella diretta precedente nel 1862 espone in un salone insomma a Torino poi ancora è ospite del critico d'arte Diego Martelli a Castiglioncello e dopo parleremo di questo fatto e poi durante la terza guerra d'indipendenza si arruola volontario nel sesto reggimento del corpo volontario italiani e combatte in Trentino insieme proprio ad altri due pittori cioè Odoardo Borrani e Giuseppe Abbati ferito alla gamba il 16 luglio 1866 a Cimego nel corso della battaglia di Condino fu fatto prigioniero dagli austriaci vediamo che cosa scrive Raffaello Sernesi alla sorella quando appunto è ormai stato preso prigioniero dagli austriaci dopo appena tre quarti d'ora di combattimento fui colpito da una palla nell'estremità della gamba sinistra restai sul campo fino alla fine del combattimento gli austriaci restati padroni del campo vennero a prendere i feriti per trasportarli negli ospedali io ora mi trovo nell'ospedale di Bolzano dove siamo ricolmati di cure e di gentilezze che fan dimenticare un poco l'essere lontano dalla patria la mia ferita non è grave sicché non potrà avere triste conseguenza per cui tranquillizzatevi che finita la guerra tornerò fra voi ecco ahimè raffaello sernesi scrive queste cose verso la fine di luglio del 1866 è evidente invece che la ferita ha avuto brutte conseguenze perché all'inizio di agosto di quello stesso anno quindi pochi giorni dopo l'11 agosto del 66 a causa della cancrena dovuta alla mancata amputazione dell'arto raffaello sernesi muore in quell'ospedale di bolzano dove c'è una targa che lo ricorda ecco questo quadro che noi stiamo osservando tetti al sole è proprio la dimostrazione di come abbia assorbito al 100% tutti gli influssi e gli stimoli della della pittura macchiaiola con queste macchie di luce questi muri luminosi chiari molto molto chiari e questi invece in ombra scuri scurissimi che un po' caratterizzano abbiamo visto già qualche quadro proprio di Giovanni Fattori per esempio in vedetta questo per esempio è un altro bel quadro di Raffaello Sernesi ancora un altro en plein air pratone alle cascine quindi un paesaggio anche questo comunque dipinto a macchie vedete per esempio che le casupole in fondo non hanno non hanno dettagli infatti insomma abbiamo detto che in contattempo con Signorini e Marco Valsecchi che è un critico d'arte scrive la sua pittura si distingue per il colore nitido e la nettezza del disegno più che la luce sentì l'intensità sentì scusate cioè Raffaello Sernesi sentì l'intensità dello spazio e il timbro del colore che usò con un intarsio prezioso e preciso realizzando calmi dilli profonde elegie adesso è il momento di parlare di uno dei pittori più importanti della scuola dei macchiaioli che è Diego Martelli ecco questo quadro non è un autoritratto è un ritratto di Diego Martelli realizzato da Giovanni Boldini un pittore che ha avuto a che fare con i macchiaioli anche se non possiamo sicuramente definirlo uno dei macchiaioli anche per il suo modo di dipingere ritratti lo vedremo tra poco abbastanza come dire non del tutto in linea con quelli che erano i dettami di questa scuola pittorica Diego Martelli ecco invece a differenza di Sernesi era nato in una famiglia abbastanza ricca e infatti aveva avuto una villa una fattoria appunto che poi però vendette e ereditò comunque anche un ampio terreno presso Castiglioncello ed è questo terreno la villa di Castiglioncello che sarà una dimora per tanti pittori macchiaioli che lui ospiterà in questa villa ecco la importanza di Diego Martelli nel movimento dei macchiaioli beh è tanta perché è un personaggio molto dinamico e amico di molti pittori impressionisti francesi Martelli riuscì a collegare le ricerche dei suoi amici pittori toscani con quanto di più innovativo avveniva in Francia di personalità anfitrionica quindi vuol dire praticamente che è in grado di quasi di copiare diciamo anfitrione infatti è una una commedia in cui si parla di un sosia di sosia di anfitrione insomma diciamo anche se vogliamo abbastanza teatrale ecco chiamiamola così e istrionica ecco nella sua tenuta presso Castiglioncello ospitò diverse volte nei periodi estivi i pittori macchiaioli ecco il discorso di cui vi ho accennato già in precedenza cioè lui ospitò tanti pittori e l'abbiamo già visto anche parlando dei pittori di cui abbiamo parlato prima infatti lui aveva cominciato a frequentare i caffè Michelangelo a Firenze e poi divenne davvero il riferimento culturale del movimento insieme a Telemaco Signorini ricordate che anche Telemaco Signorini era un grande teorico di arte oltre a essere un grande pittore poi fondò appunto con Telemaco Signorini Adriano Ceccioni il gazzettino delle arti del disegno come abbiamo ricordato prima ecco qui per esempio possiamo vedere un ritratto stavolta è stato Fattori a disegnare Martelli da questo traspare tutto il sereno e rilassato clima estivo con un linguaggio formale di grande sintesi ma di notevole espressività poiché Fattori anche lui ha beneficiato della ospitalità di Diego Martelli presso questa villa di Castiglioncello ecco uno dei quadri che possiamo definire tra i più simili ecco analoghi anche se questo mi sembra sinceramente un quadro perdonatemi ma devo devo controllare mi sembra un quadro di Fattori e non vorrei fare degli sbagli perché ricordate che con Giovanni Fattori abbiamo visto e analizzato un quadro insomma della battaglia se non sbaglio proprio della battaglia di Magenta con le suore e con i soldati anche soprattutto i soldati feriti quasi al centro del quadro invece sicuramente il suo questo quadro la pianura con cavalli e soldati comunque volevo attraverso questo quadro soprattutto far capire che c'erano delle analogie con alcuni soggetti che abbiamo trovato già presenti in altri pittori macchiaioli ad esempio proprio i soggetti di guerra Martelli farà diversi viaggi a Parigi perché abbiamo detto che era in stretto contatto con importanti pittori francesi impressionisti anche quindi nel 79 visitò l'esposizione degli impressionisti e riferì a Giovanni Fattori fra i nostri espositori di qui i più in punta sono Monet che il bot e Pizarro in definitiva quella di Diego Martelli è stata una vita intera dedicata all'arte non con il pennello lo scalpello in mano perché effettivamente dipingeva anche lui però era più che altro un animatore culturale insomma lui era un consigliere esperto critico studioso con la forte curiosità di conoscere capire persone e opere ha frequentato buona parte dell'arte ottocentesca e dei pittori più importanti della seconda ottocento non solo in Toscana un mecenate lungimirante che su un piano diverso del critico rispetto a quello del mercante lo avvicina come intendimenti e capabilità di intenti a Paul Durand-Ruel grande sostenitore degli impressionisti francesi che lo stesso Martelli stimava profondamente è una figura questa diciamo del benefattore del patrocinatore d'arte che ecco se avete in mente per esempio quel famoso insomma collezionista d'arte che poi fu ritratto da Cézanne adesso non ricordo il nome che fu poi ritratto dallo stesso Cézanne e persino da Picasso un personaggio quindi molto importante molto interessante quasi unico si può dire in Italia mentre in Francia cominciano già a essercene di questi intenditori e di questi mecenati appunto che cercano quantomeno di sovvenzionare e di facilitare il lavoro degli impressionisti parliamo adesso di Giuseppe Abbati anche lui è figlio di un pittore il pittore Vincenzo Abbati e anche lui praticamente un fiorentino ed è uno dei più ferventi insomma appassionati ed entusiasti macchiaioli qui possiamo vedere per esempio un dipinto l'Arno dalla Casaccia un suo quadro più o meno del 1863 l'opera rappresenta una piccola barca che scivola sulle acque dell'Arno il pittore scusate si stabilì a Firenze verso la fine del 1860 e lì iniziò a frequentare il caffè Michelangelo era nato a Napoli però figlio appunto di Vincenzo Abbati nel 1836 aveva studiato a Venezia con gli Grigoletti all'Accademia di Venezia ritorno a Napoli nel 1853 qui lavorò col padre fino alla spedizione dei Mille alla quale partecipò perdendo un occhio nella battaglia del Volturno quindi anche lui fervente patriota qui lo possiamo intravedere con una benda appunto all'occhio abbiamo possiamo vedere dei quadri importanti di Giuseppe Abbati ad esempio questo che è la rappresentazione credo di un chiostro napoletano a testimonianza di quello che è la regione da cui viene ecco quindi effettivamente poi dopo anche la famiglia perché mi ero confuso prima la famiglia si trasferisce a Firenze però appunto lui era originario di Napoli a Napoli ritorna anche nel 1858 dove l'anno dopo nel 59 espone alla mostra del reale museo borbonico il dipinto la cappella di San Tommaso d'Aquino in San Domenico Maggiore e conosce i pittori Bernardo Celentano e Domenico Morelli vi ricordate quel pittore napoletano di cui abbiamo parlato prima appunto Domenico Domenico Morelli nel 1860 però come vi ho spiegato insomma lascia Napoli per combattere nel corso insieme ai mille insieme ai Garibaldini poi abbiamo detto che si trasferisce a Firenze e lì giunto a Firenze nel 60 entrò subito nel vivo del movimento macchiaiolo distinguendosi per alcuni interni delle chiese fiorentine dipinti con una sobrietà di rapporti e un impianto solido di figure nell'architettura qui per esempio abbiamo lo scorcio di una strada fiorentina oppure qua abbiamo il chiostro di Santa Croce eccolo qua il dipinto del chiostro di Santa Croce cui abbiamo accennato prima qui frequenta il caffè Michelangelo poi ancora fa parte della scuola di Piagentina con Telemaco Signorini Vincenzo Cabianca Raffaello Sernesi Odoardo Borrani e altri pittori e poi nel 1863 espone dipinti en plein air a Torino e a Firenze ecco appunto l'ora del riposo Arno presso Firenze motivo presso Castiglioncello evidentemente anche lui ha frequentato la villa di Castiglioncello di Diego Martelli Ulivi del Monte alle Croci eccetera poi partecipa anche non solo quindi alla spedizione dei Mille ma anche alla terza guerra di indipendenza si arruola come volontario bersagliere viene fatto prigioniero nella battaglia di Pustoza e viene internato in Croazia quindi come ben sapete allora la Croazia era sotto l'impero austro-ungarico poi rientrato a Firenze nel 1866 combatte di nuovo con le truppe di Giuseppe Garibaldi nel Trentino nel 67 si trasferisce nuovamente nella tenuta di Diego Martelli a Castelnuovo e il 13 dicembre 1867 viene morsicato dal cane il cane Cennino era idrofobo e quindi dopo questo morso morirà 39 giorni dopo per idrofobia il 21 febbraio del 1868 a soli 32 anni viene sepolto poi nel cimitero delle porte sante di Firenze questi sono alcuni degli ultimi quadri che ha realizzato Giuseppe Abbati Bovi al carro e qui ci fa venire in mente anche un famosissimo quadro di fattori e Stradina anche qua potete vedere il gioco delle luci e delle macchie di colore è il momento è arrivato adesso è il momento prima di parlare di altro mi piacerebbe per terminare il discorso su Giuseppe Abbati leggere le parole di Brizio uno studioso che scrive il contributo dell'Abbati sta nell'indagare en plein air luci e ombre nell'infinito ventaglio delle sfumature dei colori nei paesaggi di Maremma i cui limiti sono orizzonti di cielo e soggetti e i soggetti sono elementi di natura solitaria laddove gli spazi luce si ingrandiscono e la materia si appiattisce fino a far trasparire le venature della superficie dipinta scusate in Abbati la fissazione della luce nella macchia è molto accentuata ma per questo mezzo nei momenti più felici egli riesce a rendere l'impressione di una grave stasi pacata e lenta e nello stesso tempo già che i suoi colori sono belli anche qualitativamente a raggiungere un equilibrio prezioso e decorativo bene è arrivato adesso il momento di parlare di Odoardo Borrani che era nato a Pisa ecco qua vediamo per esempio un suo quadro i renaioli nel Mugnone viene un po' da ridere a leggere questo titolo perché il Mugnone è protagonista di quella famosa è un fiume affluente dell'Arno protagonista di quella famosa novella di Calandrino all'Elitropia perché è appunto lì sulle rive del Mugnone che Calandrino cerca la pietra che dovrebbe renderlo invisibile questo quadro del 1880 l'episodio rappresentato in quest'opera è un episodio di vita quotidiana infatti si tratta di poveri operai che vanno a cercare di filtrare l'arena la sabbia presso le sponde le rive dei fiumi Borrani andò a vivere a Piagentina dove dipinse le sue opere più meditate e belle quindi facendo parte della scuola di Piagentina insieme con Raffaello Sernesi Silvestro Lega Giuseppe Abbati e questo è il secondo momento della svolta macchiaiola con cui avviene una traslazione da uno stadio più pragmatico quindi per esempio anche storico politico ad uno più libero comincia il più bel periodo della vita artistica del Borrani scrive il suo amico Adriano Cecioni e gli prende una casetta in campagna fuori dalla porta alla croce di Firenze dove rimane fisso per il corso di otto anni lontano da ogni distrazione tutto raccolto negli studi dell'arte poi aprirà con l'amico Silvestro Lega una galleria d'arte dedicata al movimento macchiaiolo nel palazzo Spini Ferroni qui vediamo un altro suo dipinto la Cappella dei Pazzi che si vede probabilmente dall'esterno ecco perché quella cappella dedicata a quella famiglia vi ricordate che aveva fatto anche una congiura contro i medici ecco effettivamente però dal 1880 in poi entra in una fase di declino artistico si separa dalla moglie muore il figlio Ugo e lui si trasforma in un pittore borghese che si adagia in una visione tepida del vero secondo il critico Cecchi c'è il fallimento della galleria d'arte quindi lui Borlani comunque non vive in condizioni molto agiate anzi piuttosto di grande ristrettezza deve aprire una scuola di pittura di pittura convegni di artisti nel proprio studio il piccolo pitti lo chiamava così questo studio il piccolo palazzo pitti non so cercando di sbarcare in un ario facendo l'insegnante all'accademia di Firenze e poi nei ritagli di tempo decorando porcellane o disegnando e facendo illustrazioni si risposa poi Odoardo Borrani in seconde nozze con Giovanna Santucci levatrice vedova e madre di cinque figli lei muore nel 1905 e pochi mesi dopo anche Odoardo Borrani morirà sempre in quel 1905 dipingendo in maniera se vogliamo un pochettino più accademica in questi ultimi decenni rispetto al periodo più macchiaiolo ecco questo però è un quadro bellissimo perché è uno di quei quadri della fase più macchiaiola di Odoardo Borrani di quando lui così come tanti altri pittori abbiamo visto ad esempio dipingevano episodi importanti della storia del risorgimento come quando durante la spedizione dei Mille magari si cucivano le camicie rosse qui abbiamo infatti un quadro di cucitrici di camicie rosse è arrivato il momento però adesso di parlare di Boldini abbiamo già visto il quadro di Boldini e lo rivediamo che è un ritratto di Diego Martelli e dobbiamo dire quindi qualcosa adesso su questo pittore che è un pittore ferrarese insofferente della vita anche di provincia benché Ferrara sia sicuramente anche una città abbastanza importante nella storia però probabilmente in quello scorcio di 800 era sicuramente meno aperta rispetto a Firenze allora Boldini si trasferì a Firenze un ambiente ben più stimolante dal punto di vista sociale e artistico e poi da lì incominciò una serie di viaggi infatti viaggiò molto e visse a Londra a Parigi per tanti decenni dipinse e diventò un pittore abbastanza ricercato e morì a Parigi nel 1931 l'ecletismo delle sue realizzazioni e la versatilità del suo estro creativo rendono un pittore prendono Boldini un pittore che non si può inserire così pedissequamente in una scuola è uno dei meno macchiaioli di quelli di cui stiamo parlando oggi un po' come vi ricordate il Domenico Morelli Domenico Morelli è un chiamiamolo così un pre-macchiaiolo mentre Boldini possiamo definirlo un post-macchiaiolo è vero che i macchiaioli avevano dipinto dei ritratti e quindi lui Boldini qua per esempio ritrae una fanciulla Adelaide Banti che appartiene a una famiglia aristocratica fiorentina poi però senza schemi Boldini Giovanni Boldini porta avanti un suo un suo tipo di arte una sua originalità per esempio scrive lo storico dell'arte e studioso la storica dell'arte e studiosa Alessandra Borgogelli Boldini senza dubbio apprezza le vedute di fattori di Abbati di Borrani anche se nei suoi paesaggi notiamo sempre un forte effetto elettrico e andiamo a vederlo quindi un effetto elettrico guardate questo quadro come è poco macchiaiolo tra virgolette proprio per via di tutti questi sembra quasi piccoli guizzi di luce che mancano nelle composizioni degli altri all'orizzontalità scusate dei formati delle opere di Macchiaioli Boldini sostituisce la verticalità delle sue vedute scorciandole paurosamente inoltre ai loro trionfi solari ricordate quei muri così chiari dei macchiaioli lui contrappone invece una meteorologia perturbata questo tempo grigio questi insomma scorci che quasi sembrano giornate uggiose mette in campo una natura imbronciata insomma è mossa da un vento che sembra autorizzare lunghe pennellate strisciate di colori sempre più lontane dalle luminose soluzioni formali a blocchi tipiche dei macchiaioli bene siamo arrivati verso la fine del nostro incontro finalmente a parlare di Silvestro Lega abbiamo nominato così denominato così la nostra serata il nostro video la nostra diretta di oggi e invece ancora non abbiamo visto i quadri di Silvestro Lega finalmente è arrivato il momento Silvestro Lega aveva studiato arte negli anni 40 seguendo i dettami del purismo poi aveva anche militato partecipato ai moti del 1848 e da lì in poi fu molto suggestionato dalla vita militare solo nel 1861 si convertì tra virgolette alla pittura macchiaiola orientandosi verso la ricerca di uno stile di impressione basato sull'impiego di macchie di colore e di volumi definiti con il contrasto tra luci e ombre che abbiamo visto essere così caratteristico dei macchiaioni si distinse però rispetto agli altri per la sua maniera pacata pervasa da un sentimento suave e da una poetica di sereni sentimenti quotidiani ad esempio lo possiamo vedere in questo quadro l'elemosina in cui notiamo appunto tre donne che potrebbero essere poi vedremo le donne della famiglia Batelli che lui frequentava e ne parleremo subito anche per i quadri successivi che fanno l'elemosina cioè danno un soldo ad una vecchietta che aveva atteso le mani quindi un quadro di piccoli sentimenti di cordialità e di umanità e di condivisione nei confronti di chi magari va mendicando perché ha bisogno proprio di qualche soldo per poter sopravvivere insomma temi di soggetti quotidiani i travagli le difficoltà anche economiche dell'ottocento italiano scorci di vita rurale e comunque piuttosto povera insomma a parte dicevamo questa famiglia Batelli che poi lo ospiterà attivo anche nella seconda guerra di indipendenza dopo il 48 quindi anche nel 59 nel 59 nella seconda guerra di indipendenza faceva il soldato l'artigliere rientrò poi a Firenze e divenne sempre più cordiale con gli amici del caffè Michelangelo e come vi ho spiegato più o meno in quegli anni intorno a 60 61 si può dire che entrò a pieno titolo nel movimento dei macchiaioni andiamo a vedere un altro quadro di Silvestro Lega ecco il pergolato il pergolato è uno dei quadri probabilmente più famosi di Silvestro Lega ecco intanto possiamo dire altre cose molto molto importanti cercò di iniziare a vendere i suoi quadri ci riuscì a partire dicevamo dalla 59 quindi si trovava una casa via Santa Caterina probabilmente a Firenze dove vivevano anche Giovanni Fattori e altri artisti fece dei quadri di carattere militare il ritorno dei bersaglieri italiani da una ricognizione la ricognizione dei cacciatori delle Alpi un'imboscata di bersaglieri italiani in Lombardia che rappresentavano appunto questi questi fervori risorgimentali cui lui partecipava attivamente perché era anche un soldato abbiamo detto e poi piano 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 dicevamo soprattutto quando fu accolto dalla famiglia Batelli trovò il suo la sua cifra artistica ecco questi piccoli sentimenti valori questi queste scene di vita quotidiana lui era molto sensibile abbiamo detto ai valori abbiamo visto risorgimentali lui era nato vicino a Forlì il suo realismo di visione si svolse in una serie di opere eseguite tra la metà degli anni 60 e i primi anni 70 caratterizzate da un prevalente interesse per il racconto con un'intonazione fortemente intimista come dicevamo proprio questo pergolato allora lui aveva partecipato alla scuola di Piagentina e a questo punto che lui conosce la famiglia Batelli e incomincia a instaurare un rapporto sempre più stretto con la famiglia Batelli e in particolar modo con le figlie del signor Batelli infatti Silvestro Lega si invaghì di Virginia che aveva 26 anni era effettivamente tornata in famiglia dopo un matrimonio sfortunato con un certo Giuseppe Puccinelli la simpatia con Virginia si trasformò in intimità i due intrecciarono una relazione sentimentale che non mancò di essere approvata comunque dai vari esponenti della famiglia Batelli si fidanzò insomma con Virginia a questo punto Lega incominciò a lavorare sempre più alacremente animato da uno straordinario vigore creativo produsse una notevole mole di dipinti come appunto abbiamo visto l'elemosina questo pergolato questa scena di vita quotidiana molto tranquilla molto serena con queste sorelle Batelli e il canto dello stornello probabilmente un altro dei suoi quadri più più famosi e qui potete vedere appunto Virginia e le due sorelle che intonano una canzone accompagnati al piano da una delle una delle tre e il nostro Silvestro Lega che le osserva ma non è lo sguardo di un vuoyé ecco di un guardone tutto il contrario è lo sguardo di una persona che prova grande affetto per tutte e tre non solo per la sua fidanzata ma anche per le altre due sorelle un grande rispetto una quasi una venerazione e anche una valorizzazione se vogliamo anche dello spirito femminile quindi di questi quadri di questi scorci così delicati oserei dire quindi così intimi appunto bene con questo quadro termina la nostra esposizione di stasera ed è arrivato il momento di leggere eventuali commenti che sono presenti su youtube intanto salutiamo simone martinotta ecco che ci sta ringraziando per il lavoro che facciamo in generale anche per quello di stasera francesco bohemio che non abbiamo salutato prima guido giustizia michael carraffa e poi gli altri che abbiamo salutato già prima valentina saleno simone paoli aschi gabrioro bene vediamo cosa cosa hanno scritto i nostri amici i macchiaioli partecipano a una terza guerra di indipendenza e l'abbiamo visto ci sono stati dei pittori che sono addirittura morti combattendo proprio nel corso della guerra di indipendenza quindi siamo intorno al 1866 non solo abbiamo già visto anche che alcuni di essi hanno partecipato sia ai morti del 48 e altri alla seconda guerra di indipendenza cioè quella del 59 in particolar modo abbiamo letto del pittore raffaello sermesi che è morto a bolzano nell'ospedale di bolzano dopo essere stato colpito dagli austriaci durante una battaglia nel 1866 proprio durante la terza guerra di indipendenza non ho capito la differenza tra arte accademica e arte comica ah ecco queste erano le critiche che muoveva Adriano Cecioni ad alcuni pittori francesi che esponevano nel corso dell'esposizione universale non era attratto quindi né dalla pittura accademica quindi una pittura in buona sostanza di maniera quindi di imitazione una pittura quindi che non che non dava alcun nuovo apporto alla storia dell'arte mentre invece la quella comica era quella dei quadri leziosi graziosi insomma comunque diciamo che erano andavano incontro magari ai gusti del di chi doveva comprare dei borghesi dell'epoca Cecioni quindi prese parte alla scuola di Barbison no assolutamente no anzi al contrario abbiamo detto che era abbastanza avverso alla scuola di Barbison quindi per esempio Millet o comunque i pittori francesi della prima metà soprattutto dell'ottocento e invece Cecioni rispettava molto l'arte di Courbet che incominciava a distinguersi rispetto alla scuola di Barbison Cecioni la pensava come gli impressionisti sulle esposizioni dell'accademia ufficiale realista e classicista che rifiutavano le loro opere l'accademia rifiutava le opere degli impressionisti tant'è vero che loro poi fecero un salon de refusé cioè un'esposizione degli esclusi dall'accademia Sernesi lo si può definire proto-macchiaiolo allora proto-macchiaiolo abbiamo detto magari è più Morelli mentre Sernesi invece è un macchiaiolo vero e proprio nel senso che nel 1860 conosce Telemaco Signorini aderisce alla scuola di Piagentina e quindi proprio è sicuramente un macchiaiolo della maturità della scuola dei macchiaioli non proto che vuol dire quindi precursore dei macchiaioli ecco Giovanni Boldini era anche un macchiaiolo abbiamo già spiegato di come assolutamente non si possa ne abbiamo parlato di Giovanni Boldini perché era andato a Firenze aveva incontrato Telemaco Signorini eccetera eccetera però assolutamente dobbiamo dire che Giovanni Boldini è un pittore che non può essere definito macchiaiolo assolutamente diciamo che opera in quei decenni ha dei contatti con i macchiaioli ma poi prende una strada che è tutta sua Giovanni Boldini artista eclettico esatto cosa vuol dire? vuol dire che Giovanni Boldini aveva elementi aveva in sé elementi artistici diciamo fonti possiamo dire iconografiche o anche se volete caratteristiche proprio tecniche che erano appartenevano a più scuole senza schemi quindi possiamo definirlo per certi aspetti un realista ma per certi altri aspetti un simbolista e quindi pensate che ad esempio Boldini continuò ad operare anche durante il periodo delle avanguardie storiche quindi un pittore che attraversa più epoche e anche più correnti artistiche la scapigliatura è stata da me già affrontata nella nelle mie lezioni di letteratura italiana in classe quinta liceo e quindi sono già presenti molti video sulla scapigliatura nel mio canale youtube per il momento no poi vedremo ecco ci sono sicuramente delle analogie fra impressionisti e macchiaioli c'è da dire a dire la verità che i macchiaioli non sempre sono riusciti a elaborare una teoria dell'arte così innovativa e anche rivoluzionaria possiamo dire come invece fecero gli impressionisti la storia dell'arte possiamo dirlo europea e mondiale è cambiata dopo gli impressionisti e invece dopo i macchiaioli non c'è stata questa rivoluzione ecco ci sono voluti gli impressionisti perché forse avevano una maggiore coscienza consapevolezza della novità della loro arte però ci sono delle analogie indubbiamente per esempio il fatto che anche i macchiaioli dipingessero all'aria aperta e anche per i macchiaioli fosse importantissimo la prima impressione che nella mente noi come dire che noi abbiamo dalla realtà i colori spesso non c'è linea di contorno come gli impressionisti spesso all'aria aperta soggetti di vita comune ecco queste sono sicuramente grandi analogie fra impressionisti e macchiaioli Ludovico Tommasi è un altro post macchiaiolo ah sì non c'è alcun dubbio è vero quello che abbiamo appena detto cioè che è imparagonabile l'influsso dell'arte impressionista rispetto a quello che fu l'influsso dell'arte macchiaiola della pittura macchiaiola però ci furono dei pittori soprattutto italiani ovviamente che furono molto influenzati anche dalla scuola dei macchiaioli come Ludovico Tommasi nato nel 1866 morto nel 1941 quindi un pittore di una generazione successiva che indubbiamente lo possiamo vedere intuire anche dai suoi quadri è stato sicuramente influenzato anche dai macchiaioli benissimo bene abbiamo letto quindi tutti i commenti che sono stati fatti su youtube grazie per insomma il nostro dialogo le vostre domande e le mie risposte sono state tutte molto molto interessanti e quindi è arrivato il momento dei saluti ci vedremo fra due giorni o meglio fra due sere per il nostro incontro biserale il nostro incontro a sere alterne ogni 48 ore che sarà stavolta su radici lato A cioè prenderemo l'LP di Guccini e diciamo che faremo andare i solchi solamente sul lato A del vinile in realtà però per la caratteristica dei nostri incontri musicali non ascolteremo l'originale Guccini ma commenteremo e interpreteremo noi stessi le tre canzoni del lato A di questo l'LP di questo album cioè radici la locomotiva e piccola città dopodiché salteremo l'incontro del giovedì perché purtroppo io giovedì 14 ho un impegno familiare e ci ritroveremo quindi sabato 16 sulla rivoluzione americana e poi via discorrendo tantissimi incontri di letteratura come il comune rustico di Carducci di storia personale dell'insegnamento con foto di classe di storia contemporanea la corsa allo spazio USAURS di musica americana con John Denver di narrativa in lingua inglese con Lord Jim di Joseph Conrad di storia medievale con la prima crociata di letteratura medievale con maestro Simone da Decameron di Boccaccio e infine di geografia e storia con San Marino che sarà lunedì 1 novembre bene detto questo vi saluto chiaramente veramente un abbraccio a tutti quanti anche a un grandissimo insomma docente il Paco lui sa rivelo il suo nome e il suo cognome e insomma i nostri amici di Instagram Simone Martinotta grandissimo Francesco Guido Michael Valentina Simone Gabri i nostri amici di Youtube quindi Melvin Pierpier che ci hanno seguito e ci hanno anche aiutato moltissimo con i loro commenti interessanti è arrivato il momento di salutarci questo video rimarrà per sempre comunque sul mio canale Youtube sul mio profilo Facebook e anche su Instagram TV buona serata a tutti voi e ci rivediamo tra due sere a tutti i nostri amici